Fa passare per Matri, Matri attaccata alle spalle, fa ancora Vucinic, Matri nello stretto, Vucinic! E poi Matri non riesce a trovare la porta! Pirlo, Vidalla, molto chiusa la Fiorentina adesso, Pirlo ci è con Barco, Marchisola fa girare di prima per Vucinic! Vinto! Vucinic, 1-0, splendida azione in verticale della Fiorentina e Vucinic è in un momento veramente buono! Amaurin, stacca prima di Cazares, ma che è andato da fuori gioco, calcio in posizione! Cazares allargna le braccia, è venuto a parlare con il guardalino, è espulso! Alessio Gerci va sotto la doccia, è espulso Gerci! Qui c'è una manata e poi un calcio! Vucinic sul primo palo, prova a liberarsi, Vucinic ancora protegge poi la da dietro, Fidal, Boruc, Arturo! Fidal, 2-0! Pepe taglia in mezzo a campo, Madri gli ha lasciato spazio, arriva a rimorchio Marchisio, Pepe cerca Vucinic, occhio a rientro sul destro, il tiro a giro, poi va sul sinistro, Vucinic! Vucinic sul fondo, mette la caduta un grande! Posizione regolare da Madri, si lascia scavaccata dal pallone, vuole entrare, Madri cerca una possibilità con il destro, poi va su Vucinic! Posizione regolare da Madri, si lascia sul terzo ruolo per Vucinic, Vucinic la mette e Claudio! Martisio! E' il zero! Questo era in fuorigioco, però ha lasciato il pallone, era in fuorigioco, posizione regolare, Madri lascia andare il pallone, il pallone arriva su un altro uomo, non arriva a lui, il pallone è in fuorigioco, ma che dubbi anche su Martisio! No, 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 assolutamente dietro all'ina della palla! Molto vivo! Poi Buffon sul pallone riesce a deviare la conclusione di Lazzari! Vucinic! Parte Vucinic, dentro per Pirlo, Pirlo con il sinistro a mea! Pirlo! 4-0, secondo gol in campionato per Pirlo, e Juventus che è veramente chiuso, messo in ghiaccio la partita subito dopo l'espulsione di Cerci, non c'è stato più bene! Pirlo, la palla è lì! Simone Bodoin, 5-0!